Come sappiamo stiamo facendo la serie Benedetti per Benedire e una delle cose interessanti di questa serie è che sapete perché è importante? Perché nessuno di noi può fare quello che Dio ci chiama a fare senza la benedizione di Dio. La benedizione di Dio possiamo dire che è vitale, è fondamentale e il titolo del mio messaggio oggi è il ciclo della benedizione. Perché il ciclo della benedizione perché ci sono dei passaggi che noi dobbiamo capire per entrare nella benedizione perpetua di Dio. Dio vuole benedire il suo popolo e oggi vi porterò in questo viaggio, tempo permettendo, di come entrare nel ciclo della benedizione e come non uscirci più. Perché Dio non è un Dio schizofrenico che oggi vuole benedire e domani no, ma è un Dio che vuole benedire sempre i suoi figli. Perciò iniziamo. In Genesi 12.2 è il verso che stiamo utilizzando di come abbiamo preso il titolo di questa serie, dice Dio che parla ad Abramo e il verso dice così, io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. La benedizione è il favore di Dio che ti potenzia per avere successo ed alzarti sopra le cose che ti schiacciano. La benedizione di Dio è il favore di Dio con te. La benedizione di Dio è Dio con te. La benedizione di Dio è quella che ci aiuta ad andare avanti, che ci aiuta ad innalzarci sopra le situazioni. Molte volte non sappiamo come fare, ma dobbiamo capire che la soluzione è in Dio e Lui vuole riversare la sua benedizione in noi. Infatti possiamo dire che la benedizione è semplicemente Dio con te. Questo lo troviamo in Genesi 26. Genesi 26 ci parla di un momento particolare della vita di Isacco. È un momento dove c'è carestia nel paese e c'è qualcosa che mi tocca particolarmente perché la parola ci dice che in Genesi 26 inizia così il primo versetto ora ci fu una carestia nel paese e se andiamo avanti nel verso 2 allora l'Eterno apparve parla di Isacco e gli disse non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti dirò, soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò. Dio promette a Isacco che lui sarebbe stato con lui e vedete quello che succede? Nel verso 12 Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo, l'Eterno lo benedisse. Il centuplo in un momento di carestia, in un momento dove il mondo dice non si può fare, in un momento dove dice è impossibile farlo, Isacco ha obbedito alla voce dell'Eterno e è rimasto nel paese, ha piantato e ha raccolto. Perché? Perché l'Eterno lo ha benedetto, perché l'Eterno era con lui e notiamo come la benedizione dell'Eterno non è stata soltanto, soltanto, mi permetto di dire soltanto, che ha raccolto il centuplo di quello che ha seminato ma vediamo che l'Eterno è rimasto con lui e e dice quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a diventare straordinariamente grande. Continuò a crescere fino a diventare straordinariamente grande. Vediamo come di gloria in gloria, di gloria in gloria, Dio lo rese grande e continuò a crescere. Ecco perché parlavo di una benedizione perpetua, non è una benedizione che oggi la ricevo perché ho seminato e domani forse no. La benedizione di Dio quando noi ci allineiamo alle sue promesse, quando noi ci allineiamo alla sua parola è perpetua. Perciò quello di cui oggi parleremo è questo e voglio suggerire una cosa, voglio suggerire che la parola benedizione può essere raggruppata nella parola shalom, nella parola pace. Mi chiedevo qual è il modo facile per spiegare alle persone cos'è la benedizione e credo che lo Spirito Santo mi abbia portato alla parola pace, alla parola shalom. Quanti di voi sanno cosa vuol dire la parola shalom? La parola shalom vuol dire sicurezza, buona salute, prosperità, quiete nel cuore e mente, completezza e nessuna mancanza. La benedizione di Dio è quella che ti porta, che porta sicurezza nella tua vita, è quella che porta buona salute nella tua vita, è quella che porta prosperità, quiete nel cuore, nella mente, completezza e nessuna mancanza. Questa è la shalom pace di Dio e sapete Gesù come viene chiamato? Gesù è il principe della pace e quando tu ti sottometti al suo regno tu ricevi tutto quello che il suo regno ha da offrirti. Vediamo come nel Vecchio Testamento, negli anni di Salomone, è un momento bellissimo perché Dio benedice Salomone e lo fa diventare uno degli uomini più ricchi e cosa succede nel regno di Salomone? Che l'argento era diventato come un metallo comune. Voglio suggerire il fatto che se tu entri e sei sotto al regno del principe della pace, tu hai sicurezza, tu hai buona salute, tu hai prosperità, tu hai quiete nel cuore e nella mente, tu hai completezza e non sei mancante di nulla. Questo è quello che aspetta i figli di Dio, a quelli che sono sotto il regno del principe della pace. Ma come ho detto dobbiamo entrare in questo e questo mi porta al mio primo punto, sapete per vivere la benedizione di Dio per prima cosa dobbiamo conoscere la parola di Dio, quindi il mio primo punto è dobbiamo avere la rivelazione della benedizione, la prima cosa che per entrare nella benedizione di Dio è che devi conoscere che Dio vuole benedirti. Sapete, mentre preparavo la pratica mi è venuta in mente una cosa, che un giorno avevamo invitato degli amici amici all'Ulyukenit, quanti di voi conoscono l'Ulyukenit al giapponese? All'epoca non era una cosa molto comune, però abbiamo invitato questi amici e noi eravamo lì con il foglietto, ancora c'era il foglietto, scrivi tre di questi, quattro di quest'altro, cinque di quest'altro e vedevamo che noi ortivamo e dicevamo ma ne volete qualcosa, volete qualcosa e loro avevano preso, sai, come si fa un ristorante normale, un piatto, due piatti e credo che hanno dovuto capire che stavamo a un Ulyukenit, che paghi un prezzo fisso, loro non lo sapevano che tutto quello che stavamo ordinando era già pagato da un prezzo fisso e perciò se tu non sai della benedizione di Dio tu non puoi vivere la benedizione di Dio, quindi il primo punto del ciclo della benedizione è la rivelazione, sapete lo Spirito Santo però non può rivelare qualcosa che non c'è, rivelare vuol dire rimuovere il velo ma se tu rimuovi il velo su qualcosa che non c'è non trovi niente, perciò voglio suggerirvi che quando tu conosci la parola di Dio, quando tu spendi tempo con la parola di Dio, lo Spirito Santo può rimuovere il velo e depositare in te la rivelazione di quello che Dio vuole fare per te e per la tua vita, perciò la rivelazione di Dio viene dalla sua parola e dal suo Spirito Santo, in Genesi 1.26 leggiamo che è il piano originale di Dio è benedire la sua creazione, leggiamo così, Genesi 1.27, così Dio creò l'uomo a sua immagine, la creò a immagine di Dio, li creò maschi e femmine e Dio li benedisse, disse loro siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiocatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra, la prima cosa che l'uomo ha udito è stata la benedizione di Dio, la prima cosa, l'uomo non aveva fatto niente per meritarsi quello, non aveva fatto crescere niente, non aveva piantato niente, non aveva dato neanche un nome a un animale, era già stato creato e appena è stato creato Dio l'ha creato e l'ha benedetto, la benedizione che Dio ha per te non dipende su chi tu sei ma dipende dalla sua natura, Dio vuole benedirti, Dio ha creato un luogo dove l'uomo poteva vivere in completa benedizione e questo è quello che Dio vuole per noi, tu sei creato per essere benedetto, tu non sei creato per fallire, tu non sei creato per fallire, non c'è fallimento nella tua vita, ovvero non sei stato creato per fallire, anche se possono esserci delle mancanze, quello non è mai il piano di Dio per la nostra vita. Sto guardando il tempo, sto correndo, ma devo correre ancora di più perché ho tanti punti, allora mi dispiace, probabilmente il ciclo lo vedremo a metà, poi ci facciamo una chiacchierata dopo. Perché quindi stiamo parlando della benedizione e stiamo parlando, abbiamo iniziato questa serie, stiamo vivendo questa serie, stiamo leggendo da un passo in Genesi 12 dove Dio benedice Abramo. La mia domanda è cosa ha prodotto la benedizione di Dio su Abramo? Ora ci rispondiamo. Genesi 13.1 dice Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro, perciò la benedizione di Dio ha reso Abramo ricco. Genesi 24. L'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa, la benedizione di Dio è per te in ogni cosa. Dio ogni cosa? Ripeti con me, ogni cosa. L'abbenezione di Dio è per te in ogni cosa. E poi ci dice in Genesi 25.8 dice, poi Abramo spirò e morì. In prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni. Prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni. L'abbenezione di Dio produce in te che tu non te ne andrai per una malattia, tu non te ne andrai perché ti succede qualcosa, tu te ne andrai prospero, sazio e pieno di giorni. Perché l'abbenezione di Dio è con te. L'abbenezione di Dio è con te. E come abbiamo detto è Dio con te. Dio con te. Perciò questo è quello che noi dobbiamo capire, dobbiamo rimanere lì. Io non voglio scegliere niente di meno che la benedizione di Dio per la mia vita. E sapete perché? Sapete perché siamo partiti da Abramo a vedere la benedizione di Dio, quello che produce? Perché nel Nuovo Testamento ci viene detto che la benedizione di Abramo è quello che aspetta a noi. Galati 3,13 ci dice, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù. Perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito Santo mediante la fede. La benedizione di Abramo, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù. Gesù sul duro legno della croce, duemila anni fa, ha pagato la tua benedizione. Duemila anni fa Gesù ha pagato la tua benedizione. Perciò tu non sei benedetto per quello che fai, tu non sei benedetto perché sei buono, tu sei benedetto perché Cristo Gesù ha pagato. E sapete una cosa? Non appropriarsi di qualcosa che è stato pagato non è spirituale, è folle. avevo scritto sui miei appunti è stupido, però non volevo usare quella parola e ho detto una cosa folle. Perciò Cristo ha pagato. Tu puoi vivere una vita piena e sazia di giorni perché Gesù Cristo ha preso quello che sarebbe aspettato a te. Affinché la maledizione della legge, sapete, nella legge era tutto basato su quello che tu potevi fare, su quello che io avrei potuto fare, ma l'uomo non poteva raggiungerlo. Perciò quando Cristo è venuto e ha pagato per la tua salvezza, ha pagato un pacchetto completo, ha pagato per la tua salvezza, ha pagato per la tua guarigione, ha pagato per la tua prosperità, ha pagato per la tua salute, ha pagato per tutto. Perciò noi dobbiamo appropriarci di quello che Cristo Gesù ha fatto. E questo ci porta al secondo punto. Per vivere nel ciclo della benedizione dobbiamo ricevere. Quindi dobbiamo avere la rivelazione della benedizione e dobbiamo ricevere la rivelazione. La benedizione non è qualcosa che cerchiamo di ottenere, ma qualcosa che Gesù ha pagato alla croce. Questo è quello che noi dobbiamo avere costantemente in mente. La benedizione non è qualcosa che io devo ottenere, è qualcosa che è già stato ottenuto in Cristo Gesù. La cosa importante è questa, tu puoi dire io ancora non lo vedo, ma Cristo l'ha già pagato, Cristo l'ha già fatto, perciò come riceviamo la benedizione che Dio ha per noi, come ogni cosa che si riceve nel regno spirituale, per fede. Tu ricevi la benedizione di Dio per fede, quando tu inizi a credere a quello che Dio e quello che Cristo ha pagato per te. Sapete, abbiamo detto che noi siamo già benedetti. In Efesini 1.3 ci dice, Paolo ci dice, benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale dei nochi celesti in Cristo. Perciò Dio ci ha già benedetti. Dio ci ha già benedetti. Noi dobbiamo, quindi dobbiamo cominciare a viverlo, dobbiamo cominciare ad aspettarci la benedizione di Dio. Quando io entro in un luogo, io non mi aspetto che qualcosa non vada, io mi aspetto che qualcosa di giusto accadrà, la cosa giusta al momento giusto, la cosa giusta al kairostime di Dio. Perché? Perché Dio è con me, io non sono solo. Dio è con me, Dio è con me oggi, domani, dopodomani, è come in chiesa, è come quando vado al lavoro, è come quando vado a un colloco di lavoro, è come quando vado a un esame. Io mi aspetto di ricevere qualcosa perché Dio è con me, perché io sono un uomo benedetto perché Cristo Gesù l'ha pagato. Pensiamo alla vita di Giuseppe. Giuseppe ha avuto i primi 17 anni della sua vita dove era il cocco di papà, il cocco di mamma, veniva trattato bene, era coccolato, no? E poi a un certo punto i suoi fratelli l'hanno venduto come schiavo, ma c'è qualcosa che mi tocca di quella storia, che forse forse l'attitudine di Giuseppe era la stessa attitudine che noi dobbiamo avere in ogni situazione. Noi non abbracciamo, diciamolo in questo modo, noi non crediamo che deve succederci qualcosa di negativo, ma dobbiamo credere che quando ci succede qualcosa di negativo non è la volontà di Dio, ma la volontà di Dio è per noi la benedizione. Guardate quello che succede qui nella storia. Genesi 39 verso 2 e 3. L'Eterno fu con Giuseppe ed egli prosperava e stava nella casa del suo padrone, l'egiziano, e il suo padrone vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno faceva prosperare nelle sue mani tutto ciò che faceva. L'Eterno faceva prosperare tutto ciò che faceva in schiavitù. Quante volte noi ci guardiamo intorno e diciamo questa cosa non è possibile. Guardiamo il nostro vicino, guardiamo il telegiornale, guardiamo la crisi, ma ci scordiamo che l'Eterno è con noi e lui farà prosperare ogni cosa che le nostre mani prendono a fare perché Dio è con noi. Se aspetti la mancanza vivrai nella mancanza. Gesù dice ti sia fatto secondo la tua fede, secondo la tua fede cosa ti aspetti? sapete, mentre oggi leggevo la predicazione mi è venuta in mente mia mamma. Sapete perché? Mia mamma è fenomenale. Ogni volta che lei pensa che vuole fare qualcosa di particolare per pranzo o per cena, torna a casa e dice, oh l'ho trovata in offerta. Sempre. Non c'è mai stata una volta che ha detto, volevo fare le melanzane ma c'è stava la bistecca in offerta, ho preso la bistecca. No, se lei vuole fare quella cosa la trova in offerta. Ma sapete perché? Lei se lo aspetta. Quando tu ti aspetti la benvenzione di Dio, la benvenzione di Dio arriva. Perché la benvenzione di Dio non è basata su quello che tu fai, la benvenzione di Dio è basata su quello che Cristo ha fatto. Perciò devi credere di ricevere. Devi aspettare il favore di Dio su ogni cosa che tu fai perché Lui è con te. La prossima volta che avrai un colloquio di lavoro. Aspettati che quella persona veda qualcosa in te. Ma non sei tu, è il Cristo in te. Perché è Cristo in te speranza di gloria. Devi aspettarti il favore di Dio sulla tua vita. Io sono un uomo benedetto. Io sono una donna benedetta. Ogni cosa che io faccio prospererà. Perché? Perché Dio è con me. Perché Dio è con me. perciò dobbiamo ricevere la benvenzione di Dio e la riceviamo per fede. La fede è composta da due parti. Credere e l'altra parte è confessare. Un uomo benedetto non parla di mancanza. Un uomo benedetto si allinea con la parola di Dio e parla solo quello che Dio parla. Io mi immagino che se mentre Isacco piantava lui diceva ma che pianta ha fatto seme? Tanto c'è la carestia. Ma che pianta ha fatto seme? Tanto c'è la carestia. Io immagino che dopo il quarto e quinto seme si sarebbe fermato. Perché non credeva che quello che stava facendo avrebbe portato frutto. Ma io immagino che ogni seme che Isacco piantava qui raccoglierò. Qui raccoglierò. Qui raccoglierò. Non si è guardato in quello che succedeva intorno? Ha pensato che Dio era con lui. Perché? Perché Dio gliel'ha promesso. E le promesse di Dio sono sì e amè. Perciò dobbiamo credere e confessare. Morte e vita sono nel potere della lingua e chi ne ama ne mangerà i frutti. Lancio una piccola bomba. Quali frutti stai mangiando? Controlla quello che stai parlando. Ho fatto la rima ma non era voluta. Cosa stai mangiando? Forse la cosa che devi fare in questo momento è capire che devi ricevere la benzione di Dio che Dio ha preparato e allineati con quello che la parola parla. Sapete Gesù dice che dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Perciò quando tu credi che sei il benedetto dell'eterno tu non riesci a parlare mancanza. Non ci riesci. Non ci riesci. Non puoi. Perché o la parola è sbagliata oppure tu sei sbagliato. E io penso che è la seconda. Sapete? Voglio darvi un passo che potete parlare sulla vostra vita. Lo volete? Eccoci qui ritrovati nello studio della nostra chiesa Equippers. Spero che questo video che stai seguendo sta benedicendo la tua vita. Anzi ne sono sicuro. La parola di Dio fa sempre la differenza nella nostra vita. E se ormai questo è il tuo metodo per ricevere parola perché forse non hai una chiesa o forse sei lontano da la nostra chiesa. Ti voglio dire se Equippers è diventata la tua famiglia ti incoraggio a fare qualche passo in più per farti conoscere da noi. Perché no? Visita il sito equipers.it dove potrai connetterti con il nostro gruppo online su Zoom. Non vedo l'ora di conoscerti. Non vediamo l'ora di conoscerti. Inoltre abbiamo un network incredibile di amici, di chiese, di gruppi in casa in tutta Italia. lo trovi sempre sul nostro sito. Oggi voglio prendere qualche minuto per parlarti di come anche tu puoi contribuire per l'avanzamento dell'opera di Dio che stiamo portando avanti sotto questa bandiera Equippers. Che altro non è che equipaggiare le persone per una vita vittoriosa attraverso la fede in Cristo Gesù. Oggi voglio parlarti del potere del seme. Intanto il verso che voglio leggere si trova in secondo corinzi 9 10 e dice così che colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare. Due cose. Al seminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e moltiplicherà la semenza, la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Molte volte noi non ci rendiamo conto che tutto quello che Dio manda nella nostra vita o verso la nostra vita non è tutto pane da mangiare. Non è solo per il nostro nutrimento. Ogni volta che io personalmente ricevo un qualsiasi cosa, un'entrata, uno stipendio, un'offerta, qualunque cosa io ricevo. Io chiedo sempre al Signore che cos'è pane e che cos'è seme. Perché qui dice la scrittura che Dio moltiplicherà la semenza. Ora dalla semenza noi abbiamo anche il pane, possiamo mangiare, ma la semenza non è solo per il pane. Ciò che Dio ci dà non è solo per il mangiare. Alcune cose sono per noi, altre cose sono per il campo di Dio. Il terreno non può rimanere inerte davanti al potere del seme. Non c'è un terreno che può dire al seme io non rispondo a te. Non c'è un terreno che può dire al seme tu non mi fai paura. Non c'è un terreno che può dire al seme tu non mi cambi. Assolutamente no. Il terreno deve rispondere al potere del seme. Solo che quando parliamo anche delle nostre offerte, del nostro dare e lo vediamo in forma di seme, ci dobbiamo rendere conto che il seme nella nostra tasca è inerte, ma il seme nel terreno e solo nel terreno è potente. E troppe volte non vediamo certe cose che Dio ha in mente per noi, perché tratteniamo quello che Dio ci ha dato come seme, confondendolo come pane. E allora ti voglio incoraggiare. Se Equippers sta benedicendo la tua vita e ci vuoi aiutare a portare avanti sempre di più questo progetto attraverso televisione, social media, radio, distribuzione di libri gratuiti come tu forse ben sai, corsi di formazione biblica gratuiti. Ti incoraggio a visitare il mio sito, se ancora non lo hai fatto, i miei profili Instagram francescobasili.tv per ricevere tutto quello che mettiamo a disposizione gratuitamente, ma lo possiamo fare perché qualcuno crede nel potere del seme. E ti incoraggio, se tu vuoi, puoi aiutarci ad andare avanti attraverso il sito equipers.it puoi diventare un donatore regolare o con una semplice donazione, anche piccola una, tanto ci aiuterai. Ti lascio a quello che è il messaggio che stavi ascoltando. Dio ti benedica. Salmo 3, verso 8. All'eterno appartenere a salvezza. La sua benedizione riposi sul tuo popolo. Domani, quando ti svegli, pensa che la benedizione di Dio riposa su me. Domani, quando esci di casa, pensa, la benedizione di Dio riposa su me. Ma non lo pensare, parlalo. Grazie Gesù, grazie Padre perché la tua benedizione riposa su me. Grazie Padre perché il tuo favore è con me. Grazie Padre perché io avrò una vita abbondante perché tu sei con me. E giorno dopo giorno, questo è quello che tu devi parlare. Voglio suggerirti una cosa. Se non riesci a parlare la benedizione, perché magari ancora non ce la fai, non dire nulla. C'è stato un momento interessante della mia vita, tanto ormai gli appunti non li finisco, quindi apro un aneddoto. C'è stato un momento interessante della mia vita che me l'ho trasferito a Londra e dovevo, e ho preso un lavoro, però il lavoro doveva finire, siccome era stagionale, lavorano soltanto l'estate, a settembre, no scusate, il primo novembre doveva essere il mio ultimo giorno di lavoro. E la gente in chiesa, quando andavo in chiesa, lo sapeva perché era un parco a tema, quindi tutti sanno il periodo che fa. Era iniziato a settembre e mi dicevano, ma allora, quando lì non potrei lavorare, che farai? Mi guardavo e gli dicevo, io non lo so, ma il Signore lo sa. Non avevo fede per dirgli, vedrai che arriverà il momento dove loro non mi cacceranno via. No, ho detto semplicemente, guarda non lo so, ma il Signore lo sa. Ma ci credevo, non lo so, ma il Signore lo sa. Non lo so, ma il Signore lo sa. Io non lo so, ma il Signore lo sa. Ma se io mi aspetto solo benedizioni da Dio, non lo so, ma il Signore lo sa e vedrò la sua benedizione. Sapete che è successo? Il capo di Verandone mi dice, senti, posso scegliere qualcuno che rimane a lavorare tutto l'inverno? Ti va? E beh, vedi un po'. Quindi la benedizione dell'Eterno mi ha permesso di continuare ad avere un lavoro quando in realtà, se fossi andato con una mentalità di, ok, a novembre devo cercare un altro lavoro e non avrei ottenuto quella benedizione. Perché? Perché non mi sarei allineato con quello che la parola dice. Perciò, punto due, ce la possiamo fare. Punto due è ricevi. Perciò abbiamo capito che Dio ci vuole benedetti, abbiamo capito che Cristo Gesù l'ha pagato, abbiamo capito che lo dobbiamo ricevere in fede, vivendo costantemente, sapendo che Dio ci benedirà. Come faceva Giuseppe? Giuseppe da schiavo prosperava. Non ho mai visto uno schiavo prosperare. Però da schiavo lui faceva tutto con la sua eccellenza, dandola a Dio. Metteva qualcosa nelle mani di Dio che Dio poteva moltiplicare. Il terzo punto per entrare, per rimanere, entrare e rimanere nel ciclo della benedizione è rispondi. Vediamo cosa ha fatto Paolo. Leggiamo Efesini verso 1 e 3. Vivere nella benedizione ti fa rispondere alla benedizione. Come inizia questo verso? Come inizia questo verso? Benedettosi a Dio. Benedettosi a Dio che ci ha benedetto di ogni benedizione. Paolo non può fare altro che rispondere alla benedizione. Perché quando Dio ti benedice, tu non puoi pensare che sei tu. Tu dai tutta la gloria a Dio. E tu inizi a rispondere alla sua benedizione. Non sono io, è Dio. Perciò lui ha risposto alla benedizione di Dio. E quando ricevi la benedizione di Dio per fede, rispondi a Dio in gratitudine. Perché ho detto quando ricevi per fede? Perché se tu aspetti di vedere che il tuo conto in banca cresce, se tu aspetti di vedere che la tua salute migliora, se tu aspetti questo prima di credere che la benedizione è tua, non lo vedrai mai. Tu per fede ricevi la benedizione, tu per fede ricevi la parola di Dio e inizi a vivere tutto quello che Dio ha dichiarato sulla tua vita in fede. Perciò tu inizi a dare gratitudine a Dio per quello che Lui ha già fatto. Ma non lo vedo! Ma chi se ne frega! Non sei... I tuoi occhi sbagliano! Nei luoghi celesti, in Cristo, sono già benedetto, perciò quello che Paolo fa... E vedete, Paolo lo dice chiaramente, ci ha benedetto da ogni benedizione nei luoghi celesti. Paolo non lo vedeva, ma lo sapeva. Paolo non lo vedeva, ma lo sapeva e ha risposto. Sapete, la prima decima è stata una risposta da Dio? La prima decima non la troviamo nella legge. La prima volta che viene data la decima non viene scritto nella... non lo troviamo sotto la legge. C'è stato un momento dove Abramo doveva andare a recuperare quello che lotta aveva perso. Gli avevano rubato tutto. è andato e ha vinto. E al ritorno trova una persona un personaggio chiamiamolo un personaggio interessante. Non entriamo nel chi era il personaggio tutti i simboli perché tanto non ci interessa per questo ma leggiamo quello che succede. Genesi 14, 18-20 Allora Melchisedec re di Salem portò pane e vino chi era Melchisedec? Egli era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abramo dicendo benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo padrone dei Cieli e della Terra e benedetto sia il Dio Altissimo che ha dato nelle mani i tuoi nemici. Ok quindi immaginate la storia Melchisedec arriva benedice il Dio d'Abramo gli dice benedetto sia il Dio perché ti ha dato tutti i tuoi nemici e Abramo gli diede la decima di ogni cosa. La prima decima non è stato un dovere è stata una voglia dal cuore perciò voglio incoraggiarvi a pensare che nel Nuovo Testamento noi non facciamo le cose per la legge ma le facciamo per il cuore se Abramo ha dato la decima di quello che ha fatto credo che questo rimane anche per noi oggi e sapete perché non è perché Dio vuole i nostri soldi ma perché quando tu inizi a dare a Dio tu dai qualcosa a Dio che può moltiplicare sapete noi troviamo in Malachia 3 ci viene detto ci viene parlato della decima e sapete la decima Dio cosa dice? Lui dice semplicemente tra virgolette semplicemente portate a me portate alla casa del tesoro affinché non ci sia mancanza e quello che ne riceverai io aprirò le catrate del cielo avrete tanta benedizione che non sapete dove riporla e scaccerò l'insetto divoratore quando tu ricapisci che quello che tu hai è da parte di Dio tu rispondi alla sua benedizione e Dio cosa fa? una volta che tu gli dai Lui può moltiplicare a te Lui può dare a te quello che già stavo aspettando mi è venuta in mente una cosa Dio ama un donatore allegro perché perché quando tu dai Lui può fare quello che un padre ama fare ridare Dio ama un donatore allegro perché quando tu dai Lui può dire io posso benedire mio figlio perché Lui vuole entrare nella mia economia Lui è una persona di cui io mi posso fidare Dio si fida di te ma se vede che quello che ti dà ti può distruggere non te lo darà Dio ti darà solo quello che sa che tu puoi mantenere perciò la prima decima è stata una risposta e noi nel vecchio testamento ci veniva detto che la legge dovevi dare il 10% ma forse forse nel nuovo testamento dovremmo dare tutto non sto parlando di denaro perché come abbiamo detto la pace shalom comprende salute mentale quindi salute nell'anima prosperità nel nuovo testamento Gesù Cristo ha dato tutto e la nostra risposta deve essere dare tutto e cosa succede quando noi diamo tutto Matteo 19 29 Gesù che parla e chiunque avrà lasciato case e fratelli sorelle o padre o madre o figli o campi a casa del mio nome perciò ha dato tutto ne riceverà cento volte tanto sapete Dio non ha debiti con nessuno non ho mai visto qualcuno che ha dato più di quello che Dio ha ridato non è possibile ma più noi ci diamo a Dio e più lui può fidarsi di noi e riversare quello che lui ha per la nostra vita perciò possiamo dire che quando diamo a Dio entriamo nell'economia di Dio cosa possiamo dare a Dio possiamo dare il nostro tempo il nostro tempo non soltanto come servizio in chiesa anche come servizio in chiesa molti di noi qui vanno al Marconi e poi vengono qui a servire perché? perché danno il loro tempo a Dio ma anche il lunedì il martedì il mercoledì dobbiamo dare il tempo a Dio sapete se la benedizione di Dio è su di me chi mi aspetto di benedire oggi chi mi aspetto di benedire domani questa è una sfida che è in me ve lo sto dicendo perché è una sfida che è in me perché quando entro in un luogo dico se io sono il benedetto di Dio e lui mi chiama ad essere una benedizione chi sto benedicendo oggi? perciò noi possiamo benedire Dio con il nostro tempo possiamo benedire Dio con il nostro talento penso che una delle persone qui che benedice Dio con il suo talento e benedice anche gli altri con il suo talento è Canale Francesco lui sa fare tante cose ma ogni volta che gli chiedi di aiutarti non ti dice no non ho tempo cerca il modo di aiutarti perché? perché è un talento messo al servizio di Dio ma sapete quando tu dai qualcosa a Dio Dio te lo ridà quindi credo che mentre tu aiuti qualcuno con il tuo talento Dio moltiplica quel talento come quando tu dai a Dio il tuo tempo Dio farà in modo che la sua benedizione ti troverà arriverà e stravolgerà il tuo tempo e quando tu dai a Dio i tuoi tesori Dio moltiplicherà i tuoi tesori perciò vi prendo qualche minuto in più va bene? intanto ho quasi finito quindi il primo punto rivelazione Dio ti vuole benedetto Dio ti vuole benedetto secondo è ricevi io ricevo la benedizione io mi allino alla parola di Dio io non parlo quello che io voglio parlare io parlo quello che Dio dice di me numero tre rispondi cosa abbiamo ricevuto che non ci è stato donato niente perciò tu devi rispondere alla alla benedizione di Dio il quarto punto è riversa scusate sto bevendo tanto oggi non lo so perché ma quindi possiamo dare colpa alle pause bevute perché sono andato lungo comunque non so se avete notato una cosa e mi dispiace che oggi non c'è nel pastore Andrea nel pastore Francesco perché oggi ho tutti i punti con la stessa lettera tutti i punti con la lettera R cioè per una volta non succede mai io non li cerco mai perché dico ma non lo so il cervello mi fa in confusione stavo così stavo pensando alla predica e il signore comincia a dimmi rivelazione ricevi riverso e ho preso appunti e ho detto oh ma tutti con la lettera R proprio oggi proprio domenica che non c'è stato il pastore Francesco e Andrea però fate così domenica prossima quando lo vedete diteglielo il quarto punto è riversa benedizione è ciò che sei non ciò che fai tu sei la benedizione cosa ha detto Dio ad Abramo io ti benedirò renderò grande il tuo nome quindi tu ne godi di questo e tu sarai una benedizione tu sarai una benedizione non puoi mantenere la benedizione di Dio la benedizione di Dio è per te ma deve fluire per gli altri Giuseppe della Bibbia ha portato la sua benedizione sul Faraone Genesi 39.5 dal momento che l'ebbe fatto soprintendente della sua casa e di tutto quanto possedeva l'Eterno benedisse la casa dell'Egiziano a motivo di Giuseppe l'Eterno benedisse benedisse la casa dell'Egiziano a caso di Giuseppe Dio ha reso benedetto Giuseppe per far sì che lui benedisse la casa di uno che aveva altri dei questo è Dio tu sei una benedizione nel tuo posto di lavoro tu sei una benedizione nella tua università università tu sei una benedizione nella tua famiglia tu sei la benedizione e la domanda che mi faccio è chi può dire di te quando quella persona si è abbinata a me sono stato benedetto chi lo può dire? noi dobbiamo riversare quello che Dio ci ha dato in te c'è la shalom pace di Dio in te c'è la shalom pace di Dio chi ti sta intorno ne ha bisogno quella salvezza che tu hai ricevuto perché Cristo ha pagato quella benedizione che tu hai ricevuto perché Cristo ha pagato è quella che il tuo vicino sta aspettando è quella che il tuo vicino sta aspettando è quello che il tuo compagno di banco se vai a scuola sta aspettando o è quello che il tuo collega di università sta aspettando se pensate alla cosa folle che succedeva nei tempi della chiesa primitiva erano pazzi i discepoli all'epoca avevano dato tutto quello che avevano e spendevano la loro vita per Dio per benedire gli altri possiamo dire che loro hanno messo sopra il mondo perché hanno riversato la grazia di Dio non hanno tenuto il messaggio per loro stessi non hanno tenuto la benedizione per loro stessi l'hanno riversata sugli altri perciò sappiamo anche che la parola di Dio dice che quando tu riversi quando tu doni ti verrà donato una buona misura scossa pigiata traboccante questo è quello che Dio vuole per te vuole che tu riceva una buona misura scossa pigiata e traboccante ma questo inizierà a fluire da te solo quando tu inizi a riversare la benedizione che Dio ti dà sugli altri quel talento che tu hai o anzi voglio scendere di un gradino quel messaggio che tu hai del Cristo Redentore è quello che devi iniziare a riversare perciò il mio quarto punto era riversa e il mio quinto e ultimo punto è sempre con la R ripeti è un ciclo è un ciclo per entrare nella benedizione perpetua di Dio dobbiamo rimanere in questo ciclo dobbiamo entrare nel ciclo dobbiamo avere la sua rivelazione perché perché la fede viene dall'udire non dall'aver udito io udì tanti anni fa che Dio mi benedisse no ogni giorno io sto con la parola di Dio cercando nutrendomi di vedere quello che Dio ha per me qual è quella cosa che Dio ha per me che io ancora non ho visto e giorno dopo giorno mi nutro aspettando e cerco quella rivelazione mentre leggo la Bibbia Signore ti prego e neanche lo devo prega tanto perché è quello che vuole fare Signore aiutami a vedere sempre di più quello che Tu vuoi per la mia vita e la sua rivelazione giorno dopo giorno devo ricercare la sua rivelazione e poi devo ricevere la mia benedizione giorno dopo giorno mentre cammino devo capire che io sono il benedetto dell'Eterno che Dio lo farà perché Lui è con me Lui è colui che mi accompagna Lui è quello che viene con me giorno dopo giorno dopo giorno Lui non abbandonerà mai Cristo Gesù è già pagato e questo è quello che devo fare e poi devo rispondere a Lui devo vivere la mia vita rispondendo Signore cosa vuoi che faccio per Te cosa vuoi che faccio per Te in questo momento cosa vuoi che do a Te perché io non voglio trattenere quello che Tu hai fatto io voglio dare a Te voglio rispondere a Te e poi devo riversare quello che Dio ha dato sugli altri e devo dire Signore come posso benedire questa persona non voglio chiudere le mie orecchie al bisogno altrui non voglio dire non voglio far sì che sento una persona che ha bisogno e dico Signore grazie che Tu mi hai salvato no quella persona ha bisogno di me io non voglio uscire indurendo il mio cuore non voglio venire in chiesa e avere un cuore indurito io voglio venire in chiesa e avere un cuore aperto per riversare me stesso per riversare quel messaggio che Cristo Gesù è il nostro salvatore e Cristo Gesù ha pagato e sapete poi che devo fare? devo ripetere cerco la rivelazione ricevo la benedizione rispondo a Dio riverso ripeto giorno dopo giorno devo entrare in questo ciclo di benedizione non perché Tu sei ma perché Cristo Gesù ha pagato prendi quello che Cristo ha già fatto sulla croce voglio invitarvi di alzarmi ripeti giorno dopo giorno questo ciclo se Tu sei qui oggi e pensi di aver messo dei limiti sulla Tua vita se pensi di forse non conoscevi quella benedizione forse non vivi nella rivelazione forse non l'hai ricevuta forse non stai rispondendo a Dio forse non stai ancora riversando sugli altri quello che Dio ti ha dato voglio che Tu alzi la mano perché così possiamo pregare insieme affinché Tu possa entrare nel ciclo della benedizione di Dio affinché Tu chieda magari perdona a Dio per non aver ricevuto quello che Cristo ha pagato perciò se mentre parlavo Tu ti sei visto che non stai ricevendo quello che Dio ha per te non stai vivendo quella benedizione che Dio ha per te se non stai vivendo il Dio con te al mio conto di te voglio che Tu alzi la mano così possiamo pregare insieme uno due non perdere questa opportunità tre la benedizione di Dio ti sta aspettando la benedizione di Dio ti sta aspettando se Tu la vuoi alza la Tua mano e entra in questo ciclo entra in questo ciclo entra in questo ciclo coraggio se c'è ancora qualcuno è una chiamata all'altare il fuoco di Dio può bruciare solo che è posto sull'altare in momenti come questi sono momenti che Tu prendi una decisione con Dio e entri nella Sua nella Sua volontà perché Tu lo decidi tu puoi entrare in quello che Dio ha per te non perdere questo momento ancora qualche secondo se Tu pensi che non stai vivendo la benedizione di Dio in abbondanza per coloro che hanno alzato la mano non voglio pregare per voi voglio che voi preghiate per voi stessi perciò ripeto dopo di me Padre perdonami se non ho vissuto la Tua benedizione io lascio ogni pensiero di mancanza io rinuncio alla mancanza del mondo da oggi entro nel ciclo della benedizione e non ne uscirò più nel nome potente di Gesù Amen di Gesù di Gesù di Gesù di Gesù Grazie a tutti.